allora Giovanni tu mi devi spiegare perché mi hai invitato a fuori ma diciamo che si è stava impegnata con un bel po' con Ascanio e quindi ho già fatto vedere come sono i miei diritti ma gli Ascanio mica siamo fidanzati, diteglielo anche voi ragazzi lo so ma anche voi avete visto che c'è qualcosa però di loro ma non è vero che bugiardo non è vero niente ragazzi io ve lo giuro che non c'è niente tra me e Ascanio ecco comunque io vado un attimo un bagno, ok? va bene, ti aspetto qua? si, ho bevuto troppa estate, tieni, l'ho finito anche e io me lo continuo a vedere vabbè ragazzi comunque, secondo voi dite la verità, sono meglio io o Ascanio? vi ho visto nei tiktok che scrivevate Giovanni, Giovanni quindi per voi sono da voi, no? ditemelo per favore perché ci sto pensando da parecchi giorni ma ragazzi, è finita Charlotte, fatemi capire, scusami è da 5-10 minuti che sto aspettando vabbè andiamola a cercare dai prendo l'ombrello allora, dove può essere andata? troviamo un bagno, no? hai detto in bagno? si permesso, grazie sarà sicuramente in bagno, chiede andiamo a vedere ma, 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 alla porta di Charlotte, ma che ma non c'è niente? dove è andata? ma dov'è? ma, dove ha finita scusami ma ero in bagno? ma, ma non c'è non è che ho sbagliato in direzione? ma ero andato in bagno ed è scomparso ma, dove andare a chiedere a qualcuno? non lo so non lo so scusi, grazie ma stavo da qua che c'è la pioggia ma dove è finita? non so dove... non la trovo ma che facci adesso? proviamo a chiedere in giro non lo so si, dai, proviamo a chiedere in giro andiamo a vedere scusi ma, questa ragazza per caso l'ha vista questa stagione? ma, è Charlotte la conosco ma non l'ho vista va bene, grazie mille scusi, scusi ma dov'è? ma, per caso avete visto questa ragazza? no, no no, va bene, grazie mille non lì, nulla non lì, nulla il cavolo, eh non ha visto neanche questo qui che fampine scusatemi se mi distruggono le tue mi distruggono le tue no, mi dispiace scusi vabbè, scusi mi distruggono le tue ma da quant'è che la sto cercando, veramente? madonna ma il cavolo posso andare? dobbiamo andare alla macchina forse sarà lì non lo so è lì perché Giorgio è? non so più dove andare lo sto cercando da tutte le palle oddio mi è arrivata una notifica è Charlotte mi ha mandato la posizione oddio ma è di là è qua oddio ma l'hai te vero? lascia stupati stupati no mi vuole smaci mi devoMA senti mi puoi 점i che struste che è paura mi ha paura ho tanta paura che struste taglimi questa cosa taglimi da qui che struste Dov'è? Ma chi sei? Ma chi è questo? Ma te è il bagno! Giappa! Giovanni! Ma chi è? 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 Giovanni! Che cosa gli hai fatto per favore? Che cosa gli hai fatto? Sei un mostro sul set! Sul set! Giovanne! 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 Dove è Giovanni? Dove sono andati? Sul salario devo trovarli? Non so neanche dove sono io Giovanni Mostro Ragazzi voi non potete capire Lo salario mi ha portato fino a questo lago E non c'è assolutamente niente Io devo cercare Giovanni Se non lo trovo entro stasera io giuro che chiamo La polizia e qualcuno Il problema è che qua giù non va internet Quindi non riesco neanche a chiamare nessuno Giovanni 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 Oh mio dio Giovanni Giovanni Non respira Respira pochissimo veloce Giovanni ti prego svegliati Io ragazzi ve lo giuro non so che cosa fare Che cosa ti ha fatto a questo mostro Qualcuno ci aiuti Non c'è nessuno Ok Devo trovare un modo per svegliarlo Giovanni Ok allora facciamo così Non so se funzionerà Ho funzionato Giovanni 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 Sono Charlotte Mi vedi? Sì sì Charlotte Ok Oddio ma che mi è successo? Alzati Ok bene Ora Sono nudo Alzati vieni Attento Vai attento che ci stassi Svegliati a casa Nooo 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 Aia 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 Giovanni Vieni qua Giovanni Vieni qua Se è piaci Attento Vieni qua Oh mio dio Oh mio dio Ok facciamo così Mettiti questo giacchetto Forza Vieni Ok Mettendo È mio Stai tranquillo Ok bene Non mi interessa Perfetto Adesso Corri con me Vieni Andiamo Per piacere Muoviti Qualcuno ci aiuti Per favore Attento Attento Ok Sono proprio sassi Vieni Vieni Io sono stuperso Oddio Corri Giovanni Giovanni E te le scarpe Mostro Oddio Attento che con quella cruce Ti fa svenire Corri 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 Non ce la faccio Non c'è Non c'è Non c'è più Ok Giovanni Svegli Svegliati Andiamo Tieni Ok Ragazzi Io e noi adesso torniamo in macchina Chiamiamo la polizia E ce ne andiamo perché Questa situazione È veramente alquanto strana e pericolosa Ok Giovanni Mi muo appena E che dobbiamo andare E che dobbiamo andare Per il Sinal Seguire Sape Per il Sinal ituo Simenti Ficolo E che oltre In Pozzare E che Irre Corri Musica Corri 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 Grazie a tutti.